Time Vision ha selezionato un'esperta in controllo qualità, residente a Ortelle, provincia di Lecce. Time Vision ha selezionato un social media manager a San Vito dei Normanni. Infine, Time Vision ha selezionato un'esperta in marketing digitale in provincia di Taranto. Ben trovati con il TG Top Profile di Time Vision. Il format rispetto al TG Lavoro è diverso. Noi ti proporremo settimanalmente una serie di best profile selezionati da noi e pronti per entrare a far parte del tuo organico. Time Vision ha individuato come top profile un'esperta in controllo qualità. La candidata ha grande attenzione ai dettagli, grande esperienza nel settore e una competenza scientifica con abilitazione professionale. La sua residenza è Ortelle, in provincia di Lecce, e la candidata ha 30 anni. Time Vision è individuato come top profile un social media manager. Il candidato ha esperienza pratica e competenze sviluppate, ha competenze in social media management e ha qualità personale, con orientamento al cliente. La sua località di residenza è San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi, e il candidato ha 30 anni. Infine, come top profile Time Vision ha selezionato un'esperta in marketing digitale. La candidata ha competenze interdisciplinari avanzate, è aggiornata su tutti i sviluppi decenti del marketing digitale, e ha capacità di sinergia tra teoria e pratica. La sua residenza è Maruggio, in provincia di Taranto, e la candidata ha 34 anni. Sei interessato ai nostri top profile? Contattaci e sapremo indicarti il giusto profilo più adatto alle tue esigenze. Grazie per la visione!